Buongiorno a tutti, buona festa di San Zeno, quest'oggi la liturgia ci porta a festeggiare il nostro patrono, il patrono della nostra diocesi, attraverso la parola dell'Evangelista Giovanni, siamo nel capitolo 15, versetti dal 9 al 17. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi, rimanete nel mio amore, se osserverete i miei comandamenti rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo, vi ho detto, perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici se farete ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti, perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, amatevi gli uni gli altri. Zeno, questo apostolo così forte, è il nostro Vescovo, ottavo Vescovo di Verona, ed è proprio quello che fa espandere il Vangelo. Se il primo Vescovo, o proprio, dà il via a questa comunità, Zeno è quello che la fa uscire dal confine cittadino, le fa arrivare più in là, nelle campagne, fino anche a raggiungere appunto quella parte di Ocesi di San Zeno che è sul lago di Garda. Perché? E questo è proprio il senso del Vangelo di oggi, no? Questa amicizia con il Signore Gesù diventa così bella che Zeno diventa affascinante. Amato a tal punto, Zeno diventa dolcissimo. Il suo sorriso diventa capace di conquistare. Perché? Perché il Vangelo che lo ha impregnato, l'amore di Dio che lo ha impregnato, la parola che lo ha impregnato e plasmato, ecco che lo rende così mite, così dolce, così forte anche, nella sua semplicità, da essere attraente, affascinante, da conquistare i cuori molto più che le città, da conquistare gli animi con la sua dolcezza, da affascinarli all'amore che ha ricevuto. E allora Zeno diventa proprio colui che per noi simboleggia e costituisce il riferimento. Perché? Perché è anche colui che ha dato una forma alla nostra Chiesa di Verona, proprio impregnandola su questo comandamento. Amatevi gli uni gli altri. E' colui che ha dato un volto alla nostra Chiesa, strutturandola proprio su questo, su questo comandamento di amore. Perché? Perché sia espressione di quella Gerusalemme celeste che fa parte del nostro vivere, di quella Gerusalemme celeste che diventa l'attesa, la speranza, quella comunione che fa da fondamento, fa da riferimento, fa da misura. Per la nostra vita di Chiesa. E allora chiediamo a San Zeno la possibilità di vivere anche noi in questo tempo questa comunione con una misura diversa, quella alta, di chi contempla il volto del Signore, si lascia abbracciare dal suo sorriso, si lascia colmare dal suo sguardo e per questo lo riflette sui fratelli, sulle sorelle, costruendo mura ben più solide di quelle che potrebbero essere le mura di una città fortificata, ma quelle mura forti che sono le mura della comunione, le mura che tengono assieme le persone in questo vincolo d'amore che risolleva, sostiene e affascina, perché poi è ciò che desideriamo più profondamente tutti. Buona solenità di San Zeno a tutti.